Ciao, io sono Tommaso e oggi parliamo di transizioni per DaVinci Resolve di terze parti. Che cosa sono le transizioni di terze parti? Sono delle transizioni che non sono già direttamente all'interno di DaVinci Resolve, ma che vengono inserite da aziende di terze parti. Sono stato contattato da Messiah, un'azienda che si occupa di transizioni video e di transizioni anche di titoli, veramente molto interessanti. Ma la cosa che mi ha colpito maggiormente di questa azienda è la semplicità di utilizzo di queste transizioni. Se siete già utilizzatori di DaVinci Resolve sapete bene che le transizioni sono un po' una parte ostica di questo programma e non ci permettono di fare chissà quali transizioni, se non le classiche a stella, a cuore, a freccia. Quelle transizioni abbastanza old style che effettivamente non piacciono più di tanto neanche a me. Messiah ci permette di fare queste transizioni prendendole e spostandole all'interno della timeline direttamente, in pagina edit, cosa difficilissima perché la maggior parte delle aziende che ho visto e i pacchetti che ho acquistato anche di transizioni, con DaVinci devono essere utilizzate e sviluppate in Fusion, che è un po' ostico da quel punto di vista, quindi ti passa un po' la voglia di utilizzare le transizioni. Ma bando alle ciance e diamo un'occhiata all'esempio di transizioni che fa il nostro Messiah sul sito e ve le mostro direttamente qui. Via! Questa era una sorta di showreel delle varie transizioni. Qui sotto trovate il link al sito per andare a curiosare i vari video e le varie opzioni di transizioni video e testo che l'azienda fornisce. Ricordatevi che il pacchetto completo, che costa 110 dollari, è scontato del 25% se lo acquistate con il codice sconto che vedete qui sotto in descrizione. Vedete voi, se vi può interessare io ve lo dico. Ma se state guardando questo video probabilmente un po' vi interessa. Quindi passiamo all'interfaccia di DaVinci Resolve e vediamo come andare ad inserirle all'interno dei nostri progetti. Eccoci qua, vedete questo è un progetto classico, niente di che, dove all'interno ho più clip e qui in mezzo voglio andare a creare delle transizioni. Se dovessi farlo in maniera classica, quello che andrei a fare è cliccare sulla divisione delle due clip, in modo da avere appunto questa segnalazione verde da entrambe le parti, e andrei a aprire il mio Effects Library e all'interno di Toolbox troverei Video Transition, prenderei la mia Cross Dissolve, la prenderei e la porterei all'interno della mia Timeline ed ecco che l'andrei ad inserire nello spazio apposito, creando quindi questo effetto di transizione. In questo caso un Cross Dissolve, poi appunto cliccandoci sopra all'interno dell'Inspector abbiamo la possibilità di cambiare le varie transizioni come meglio preferiamo. Ma a noi non interessa inserire queste transizioni, quindi comando Z per tornare indietro e voglio inserire le transizioni di Messiah appunto. Prima di tutto devo andare ad importare queste transizioni, per importarle vado ad aprire il mio Project Manager, dove vedete appunto in questo caso il mio progetto, e pulsante destro vado a importare un progetto. Vado ad importare un progetto che si trova all'interno del pacchetto completo Messiah All 7 Packs 1.3, ed è Messiah ad esempio questo qua, Messiah Camera Move Transition Pack 1.3. Vedete che abbiamo la suddivisione dei vari DRP, quindi Da Vinci Resolve Project, con le transizioni a seconda dei frame per secondo che abbiamo. Poi una cartella preview e una cartella sound. A noi interessa principalmente andare a recuperare, abbiamo una timeline da 25 frame al secondo, quindi la transition pack da 25 frame al secondo. Vi mostro prima questo e poi vi mostro la figata pazzesca che è stata innovativa per la nuova versione, perché vedete che sto per importare la transition pack 1.1, ma qui sotto c'è anche la transition pack 1.3. Vado ad aprire il pack 1.1, open. Carta penna e calamaio ragazzi, perché questa deve essere una cosa che imparate a fare, perché altrimenti non riuscirete poi ad utilizzare le transizioni correttamente. Vedete che questo è il nuovo progetto delle transizioni, la primissima cosa da fare è un altro pulsante destro e abilitare il Dynamic Project Switching. Questo qui. Abilitiamo il Dynamic Project Switching, che non è altro che la possibilità di switchare, quindi di spostarsi dinamicamente appunto tra un progetto e l'altro. Un po' come facciamo con le timeline, se non l'avete mai fatto, date un'occhiata magari agli altri tutorial, così capirete di cosa sto parlando. Comunque spostarsi da un progetto all'altro senza dover andare ad aprire il Project Manager, semplicemente. Comodissimo. Vado ad aprire Messiah Camera Move Transitions, quindi faccio un doppio clic all'interno del progetto che ho appena importato, e vedete che mi compare una bellissima cartella master con al suo interno due cartelle segnalate in blu, che sono Messiah Camera Move 2 Seconds e Messiah Camera Move 1 Seconds, e poi abbiamo delle preview e dei sound. La prima cosa che faccio è seleziono tutte le mie belle cartelle, comando C o CTRL C, e invece che tornare all'interno del mio Project Manager per riaprire l'altro progetto, visto che ho attivato lo spostamento dinamico tra i progetti, andrò qui sul mio progetto Messiah Camera Move Transition Pack, clicco sopra e mi sposto su Test Transizioni, quindi l'altro progetto già aperto. Vedete che sono ritornato nel progetto precedente, e non farò altro che andare, per un discorso di ordine, a creare un nuovo bin, che chiamerò Transitions01, all'interno del quale andrò, comando V, ad incollare le mie Messiah Camera Move 1 Seconds, Messiah Camera Move 2 Seconds, Preview e Sound. Però c'è un problema, dico però, e adesso magari lo faccio vedere meglio abilitando i thumbnail, qui abilitando questa visualizzazione, che tutte le clip sono scollegate. Se non avete mai visto come si collega una clip, vi consiglio di andare a vedere il sito www.tomasocodolo.com, nella sezione Corsi c'è proprio questo discorso, oppure magari faremo anche un tutorial gratuito, che poi metterò magari da qualche parte qui sopra o qui sotto. Comunque, la cosa da fare è andare a relincare le clip, perché se le hai perse per strada. Pulsante destro all'interno di Transitions, e vado a Relink Clips for Selected Bin. Dove le trovo le mie clip for Selected Bin? Le trovo all'interno del mio Download e Acquisti, le trovo all'interno di Messiah All 7 Packs 1.3, gli do OK, e lui automaticamente mi fa un Finding Matching Media, e voilà, hai ritrovato tutti i miei media. Se voglio vedere una preview di questi vari video, andrò nella cartella Preview e, per esempio, prenderò e guarderò le mie preview semplicemente scorrendoci sopra. Fin quando non ne troverò una che magari mi piace, questo Spin Fast mi piace particolarmente. Se non è attiva la preview, questo è un Tips & Tricks che dovreste conoscere se avete visto gli altri tutorial, qui sopra in alto avete tre pallini che se andate a cliccare vi aprirà questo menu a tendina dove dovrà essere attivato il Live Media Preview. Una volta attivato il Live Media Preview vedrete appunto le vostre Spin Transition, in questo caso Spin Fast 1 Second o Spin Fast 2 Seconds, dipende. Vado all'interno del 2 Seconds, perché voglio farla da 2 secondi, e recupero la mia Spin Fast. Non leggo bene i titoli, quindi mi rimetto nella modalità elenco, Spin Fast 2 Seconds, eccola qui, Drag and Drop, quindi prendo e trascino, e metto all'interno della mia timeline, vedete? Ma, guardo, c'è il suono, perché questi pacchetti di transizioni hanno anche il suono integrato al suo interno, però c'è un problema di base che, cacchio, non riesco a vedere le clip, semplicemente perché devo andare con il pulsante destro sopra la clip e dirgli di fare un Decompose in Place, qui in alto. Faccio Decompose in Place e lui mi ha decomposto la clip di Adjustment, ok, l'Adjustment clip. Me l'ha decomposta, non faccio altro che selezionare tutto nuovamente. In questo caso dovrà essere in fila con la suddivisione della clip, quindi il mio consiglio è di spostarvi e mettervi esattamente a metà. Se non siete esattamente a metà, potete utilizzare ad esempio dei marker per essere più precisi, prendiamo un marker con il pulsante M e vado a spostare esattamente qui la mia clip, la mia transizione, altrimenti insomma lo fate anche a mano, si riesce tranquillamente. Una volta che abbiamo fatto questo, possiamo cancellare le nostre preview. Le togliamo, proprio cancelliamole. Ed ecco che la nostra preview si è trasformata nella transizione che avevamo battezzato prima. Questa è la transizione di base, come viene, avete visto, presa e trascinata all'interno della timeline. Ovviamente la stessa clip, l'Adjustment clip, quindi la transizione stessa, può essere addirittura personalizzata. In questo caso magari faremo un altro tutorial a riguardo e potrà essere personalizzata tramite l'utilizzo di Fusion in una maniera veramente, veramente semplice. Ma non ve la mostro oggi perché oggi volevo mostrarvi come funzionavano queste Messiah Transition Pack. Bene, se fossimo interessati ad altre transizioni ovviamente basterebbe ritornare all'interno della nostra casina. Andiamo ad aprire e ad importare un nuovo progetto. In questo caso ci spostiamo su qualcosa magari di dedicato al testo. Vediamo, 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 vediamo. Title Pack 1.3 Andiamo dai 25 frame al secondo. Eccolo qui. Vado ad aprirlo. Recupero le mie cartelle. Control C o Command C. Mi risposto su test transizioni. Quindi sul progetto principale. Creo un altro bin e lo chiamo Title C. Incollo i miei divider pack. Anche in questo caso dovrò, pulsante destro, Relink clips for selected bin, dirgli dove si trovano e dargli l'ok. Mi recupera tutte le clip perfettamente. E vado a vedermi, ad esempio, le preview. Wow, che belle. Ok, mi piace particolarmente... Vediamone una... Mi piace particolarmente questa. E si chiama divider 08. Vado all'interno del divider text. Recupero il mio divider 08. E magari la vado a inserire qui stavolta. Anche in questo caso dovrò andare con il pulsante destro e dirgli Decompose in Place. In questo caso, più che una transizione, è un divide text. Quindi in realtà non servirà essere per forza di cose sopra a un punto di transizione. Mettiamoci qui. Cancelliamo la parte superiore. Ed ecco il nostro main text che compare. E che scompare. In questo caso, per andare a scrivere all'interno del nostro testo, sì, avremo bisogno di Fusion per forza di cose. Entriamo in Fusion. Entriamo nel divider pack. Gli diremo che il main text vogliamo che sia Laguna di Laguna. E il second text, qui sotto, sia di Venezia. Quindi ritorniamo all'interno di Edit. E vedete che compare appunto Laguna di Venezia. Bene, questo è il primo metodo per utilizzare testi Divider Text Pack, Transition Pack e via dicendo del pacchetto Messiah. Nelle prossime settimane vi farò vedere innanzitutto la novità della versione 1.3 ovvero i Power Beans. Ma per farlo sarà necessario spiegarvi che cos'è un Power Bean. Perché non ne avevamo ancora parlato prima. Quindi settimana prossima parleremo dei Power Beans. E poi andremo piano piano a guardare tutti i vari pacchetti singolarmente. A vedere come funzionano, come utilizzarli. E come andare anche a modificarli all'interno della pagina Fusion. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto ricordatevi di cliccare mi piace. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina se non lo avete ancora fatto. E ricordatevi che qui sotto in descrizione avete lo sconto del 25% per poter acquistare il pacchetto completo delle Transitions di Messiah. Ovviamente qui sotto c'è anche il link per andare sul suo sito. E ricordatevi che il martedì ci vediamo con le dirette. Il mercoledì ci vediamo con le videoproduzioni. E il giovedì ci vediamo con le pillole come questa di DaVinci Resolve. A me non resta che salutarvi e dirvi che ci vediamo con il prossimo video. Ciao!